Ciao a tutti e ben ritrovati, come sempre, se non l'avete già fatto vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, ad azionare la campanella, a mettere like, quotidianamente i miei contenuti. Ieri ragazzi, ieri sera, anzi, nel tardo pomeriggio, proprio per essere onestissimi, mi sono posto un interrogativo, credo un interrogativo condivisibile, ovvero perché la Juventus non molla la pista che porta ad Angel Di Maria? Ora, base del discorso, anche ieri, da quello che ho capito, dalle verifiche effettuate, l'argentino non ha dato una risposta alla Juve, non è un no, non è un sì, Di Maria in vacanza, prende tempo parlando con i suoi agenti, quindi è trascorso un altro giorno senza una risposta definitiva da parte del Fideo. Io non credo che la Juventus abbia dato ultimatum a Di Maria, non credo che la Juventus, ad esempio, abbia detto entro questa data, entro quest'orario, vogliamo sapere se sì o no, perché probabilmente la Juve crede che Di Maria meriti di stare anche un pochettino appesi, all'insegnare l'incertezza, perché io non sono neanche più al ottimismo, pessimismo, pessimismo, ottimismo, ottimismo, pessimismo, cioè lascia un po' il tempo che trova dopo settimane di questo genere dire la Juventus è pessimista, la Juventus è ottimista. Siamo probabilmente in una fase anche di studio, nel senso che probabilmente, e qui do una risposta al mio quesito che magari è anche il vostro, probabilmente la Juventus ha anche l'interesse che si continui a parlare di Di Maria. Perché? Vuoi? Perché l'interessamento è verissimo ed è ormai datato settimane, la Juve sarebbe felicissima di spavancare le porte della continessa a Di Maria, perché è un giocatore importante, perché è un giocatore che ti alza il livello qualitativo del reparto offensivo, perché è un giocatore che ti alza anche il livello di leadership. Poi, in molti, in molti sono esposti dicendo che Di Maria sia una precisa richiesta di Max Allegri, io non so se Di Maria sia un'idea di Allegri una precisa richiesta, ma so per certo che al tecnico Livornese, e non potrebbe essere altrimenti, farebbe molto piacere annoverarlo tra le sue fila. E quindi, evidentemente, a titolo gratuito, in qualità di giocatore a parametro zero, prendere Di Maria comporta qualche riflessione in più. Questa però è una vicenda abbastanza strana, una vicenda abbastanza strana e credo che sia stata anche condizionata dalla famosa, ormai c'è le berri, ma nonché famigerata, telefonata, effettuata nelle puntate precedenti da Xavi, proprio il Fideo, l'allenatore del Barcellona, comunque un sondaggio per conto di Blaugrana lo ha fatto registrare, poi il Barca è alle prese con mille problematiche a livello monetario, non riesce a ufficializzare neanche gli arrivi ormai certi di Frank Essie e di Christensen, non riesce ad andare a Monaco di Baviera con l'offerta giusta per cercare di sbloccare il discorso Lewandowski, e quindi nell'ordine di priorità, probabilmente, barra sicuramente, Di Maria non rappresenta un punto imprescindibile per la prossima stagione dei catalani. Però, cosa succede? Che, con quella telefonata effettuata da Xavi, rimane appeso Di Maria, ma rimane appesa anche indirettamente la Juve. E quindi, io credo che il discorso sia questo, ragazzi, cioè, la Juve, finché può aspettare Di Maria, lo fa, perché è un giocatore che probabilmente merita di essere aspettato, secondo il pensiero maturato dagli uomini della Continassa, e ovvio, non si può pensare che la Juventus, post questa settimana, si ritrovi poi sempre con il mamma non mamma, mamma non mamma, cioè, a una certa, Di Maria sarà anche costretto a livello di tempistiche a prendere una decisione, sebbene, questo ve lo garantisco da una chiacchiera che ho fatto con persone vicine Di Maria ieri, diciamo che dalla zona Di Maria non è che tra peli frenesia, tutt'altro, la risposta è sempre la stessa, il giocatore non ha dato una risposta, a proposito di risposte, sta valutando, è in vacanza, e prenderà la miglior decisione con la massima lucidità e la massima calma. Questa è la posizione di Di Maria. Al tempo stesso credo che se la Juventus abbia iniziato a sviluppare un piano B, e penso che abbia iniziato a svilupparlo, perché un club come la Juve non si può far cogliere impreparato, quindi è normale che il giorno che dovesse naufragare definitivamente questa pista, ma lavoratamente la Juventus dovrebbe subito partire a sprobattuto, cercando poi un'alternativa spendibile, prendibile e soprattutto proficua, per quanto concerne il progetto tecnico-tattico della stagione ventura. Quindi è normale che la Juventus abbia iniziato a sviluppare un piano B. E probabilmente per lavorare sotto traccia, per lavorare a fare i spenti, per portare avanti i contatti, che esca o meno quotidianamente il nome di Di Maria, ormai per chi opera la Juventus, è una notizia, perché è un giocatore che ormai è di dominio pubblico, il focus su questa trattativa. La Juve vuole Di Maria, lo sta aspettando da settimane, e quindi che se ne parli un giorno in più, un giorno in meno sui giornali, credo che faccia quasi gioco alla Juventus, per parallelamente in sordina sviluppare altre tracce. Cioè, domanda che vi farete guardando questo mio video, e seguendo proprio il passaggio che ho fatto poc'anzi, ma quali sono i piani di Di? Io resto frammento convinto che poi possano anche, diciamo, emergere altre candidature, perché siamo nel cuore di giugno, il mercato apre a luglio, il primo luglio ufficialmente, e quindi magari ci sono delle tracce che in questo momento, la soluzione delle cose non vediamo, parlo sia di voi tifosi, sia di noi media, ma che possono poi magari rappresentare la via maestra, che possono rappresentare la via maestra, cioè calciatori che magari sono scontenti, nei club attuali, opportunità di mercato in generale. Poi, è ovvio, credo che in questo momento il ritornello sia sempre il solito, da Domenico Berardi, a Nicolo Zagnolo, a Eres, è anche un po' semplice, no? Nel senso, buttarli tutti nel pentolone, poi magari ci si azzecca. È vero, io ho detto che mi risulta che settimana scorsa la Juve ha telefonato per Berardi e l'abbia effettuata, però non stiamo parlando di un'offerta ufficiale. Così come non sono stati registrati contatti ufficiali, diretti tra Juve e Roma, così come anche con lo Shakhtar, non mi sembra che la Juve abbia portato avanti fino al discorso legato a Neres. Però, magari, c'è qualcuno che piace maggiormente, a livello di caratteristiche, tra i nomi che abbiamo appena fatto, qualcuno meno, qualcuno viene dato in passe giornali, altri magari possono rappresentare, appunto, la via da percorrere, se dovessi naufragare Di Maria. E quindi io credo che, ragazzi, l'interrogativo di questo video sfoci in una risposta molto semplice. La Juve è appesa ancora dietro Di Maria, perché spera di prendere Di Maria, che è dal canto suo. In questo momento, fatemi usare questa espressione molto giovanile, ovvero gosta la Juve, nel senso che non dà una risposta, come quelli che visualizzano il messaggio su WhatsApp e poi non rispondono, quelli che ti fanno incazzare maggiormente, tra l'altro io molte volte gosto, e quindi voglio scusarmi con chi lo faccio, però probabilmente in questo momento, in questa fase del mercato, la Juve aspetta Di Maria e ha l'interesse che esca anche questo nome quotidianamente per portare avanti in sordina, sotto traccia, eventuali tracce in qualità di alternative. Questa è la spiegazione che mi sono dato. Ovvio, il tifoso credo che sia saturo del fatto che ogni giorno si dicano le stesse cose su Di Maria, però bisogna fare cronaca, e io faccio cronaca, perché anche ieri, da quanto ho verificato, la risposta di Di Maria non è arrivata. Arriverà oggi? Ne dubito, però vedremo, vedremo quindi quale sarà la strategia della Juventus, però volevo capire assieme a voi quale potesse essere, diciamo, la strategia della Juventus dietro al Fideo, che ormai è diventato non un nome mercato, bensì un tormentone mercato, e solitamente i tormentoni alla lunga possono anche stufare.